buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una coach e un insegnante che opera nel settore della crescita personale e spirituale questo è un video di presentazione per parlarvi di logos healing logo ceiling è una modalità di guarigione energetica che si avvale dell'utilizzo della parola logos ok attraverso l'utilizzo di tre frasi è possibile veramente cambiare la percezione della nostra realtà rispetto a qualsiasi blocco paure sistemi di credenze qualsiasi tipo di emozione negativo pensiero negativo sia a qualsiasi livello impedendoci di vivere la nostra vita pieno nel nostro massimo potenziale ok quante persone veramente hanno paure che possono essere tangibili ad esempio la paura di guidare oppure la paura di uscire di casa alcune persone soffrono anche di attacchi di panico però alcune paure sono anche irrazionali va bene ecco con logo ceiling logo ceiling non giudica logo ceiling trascende le paure sembra impossibile ma è veramente una cosa reale è possibile fin dalla prima sessione avere dei risultati tangibili ottimali oppure c'è bisogno di più di una sessione ma in ogni caso le paure vengono annullate vengono cancellate cancellate dall'intero sistema cioè sia dalla parte razionale che dall'inconscio è una vera propria modalità di liberazione pulizia del nostro del nostro canale per così dire ma anche di riprogrammazione del nostro subconscio per aiutarci ad allinearci alla nostra anima quindi anche ai nostri obiettivi personali nella nostra realizzazione come come persone ok molte persone non vivono perché vivono di paure e gli sembra impossibile quello che io sto dicendo diciamo che bisogna provare per credere sono diverse le testimonianze delle persone che hanno lavorato con me le potete trovare nel mio sito internet connessione angeliche puntocom oppure potete trovare testimonianze di logo ceiling anche nel mio canale youtube ok addirittura si può lavorare per sciogliere dei traumi del passato ma com'è possibile che attraverso l'utilizzo della parola noi possiamo cambiare la nostra realtà è una bella domanda questo dovrebbe farci riflettere e comprendere quanto i nostri pensieri e le nostre parole siano potenti nel nostro intero essere diciamo che noi non ci rendiamo conto di questo ma soprattutto le persone che tendono al negativo e passano tutto il giorno a pensare e a parlare interiormente in maniera negativa poi sono delle persone che vivono una vita insoddisfatta ma anche queste persone hanno la possibilità di cambiare questo va bene magari tu non sei una persona particolarmente negativa ma senti delle resistenze senti delle paure dei blocchi che ti stanno impedendo magari di realizzarti come persona di realizzarti nella tua carriera di realizzarti nel tuo lavoro di manifestare magari anche abbondanza ricchezza di manifestare un lavoro di manifestare una relazione tutto dipende dal tuo sistema di credenze ok noi siamo uno specchio cioè ciò che noi abbiamo dentro si riflette poi all'esterno nella nostra nella nostra vita è proprio così allora in cosa consiste lo logo ceiling logo ceiling viene suddivisa in due fasi mettiamola così la prima è la fase della liberazione e della pulizia del nostro canale quindi del nostro essere dell'intero nostro sistema la seconda fase la fase della riprogrammazione per riallinearci e manifestare la vita che noi vogliamo ok quindi prima fase noi andremo a utilizzare tre frasi queste tre frasi hanno il potere di andare a a recuperare tutta l'energia vitale legata al blocco alla paura al trauma al sistema di credenza a tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere di essere in connessione con la nostra anima di stare bene di sentirci forti coraggiosi di sentirci sereni positivi ok la seconda frase va invece a lasciare andare tutte le energie non nostre che non ci appartengono e nella terza frase andremo a recuperare tutta l'energia legata a tutte le nostre reazioni legate al blocco alla paura e così via certo che spiegarlo così non riuscirete a capire in cosa consiste però ve lo spiego in maniera semplice quando queste frasi vengono affermate e fatte a fasi cicliche tra una fase e l'altra vi è il respiro in quanto respirare profondamente ci consente di connetterci con la nostra anima diciamo che questo lavoro ci consente anche di ritornare nel momento presente di uscire dal futuro di uscire dal passato e la nostra energia viene riportata nel posto giusto in noi stessi quindi la nostra anima viene come viene viene recuperata viene va a andiamo a rinforzarci andiamo a recuperare energia vitale a lascia a lasciamo andare le energie che non ci servono questa energia alle volte non sono le nostre o queste energie alle volte sono legate a dei traumi nel passato o a paure sul futuro quindi noi in un certo senso un viaggio nel tempo è un vero e proprio recupero dell'anima e nel giro di pochi minuti o di poche sessioni dipende dai casi perché ho visto veramente persone riuscire a risolvere paure incredibili anche in 20 minuti altre invece che hanno dovuto impiegare tre quattro sessioni perché le cose erano veramente importanti da risolvere ma sono state risolte vi faccio anche un esempio alle volte le persone che hanno subito dei traumi delle violenze potrebbero avere l'energia della persona che ha abusato di loro potrebbe essere anche una persona autoritaria non necessariamente un trauma come una violenza ma anche una persona come può essere un genitore che magari è molto molto si impone molto nella nostra vita o un marito violento dipende cioè dipende dai casi comunque alle volte queste energie sono nel nostro spazio personale come avere una persona nel nostro spazio personale quindi le persone sentono sempre la presenza di queste persone anche se fisicamente queste persone non ci sono quindi è come che etericamente ed energeticamente viene tagliata viene tagliata cioè vengono tagliate le corde quindi le energie non nostre vengono portate all'esterno del nostro spazio personale e viene recuperata la nostra energia vitale legata a quelle persone oppure si potrebbe trattare di ambienti di eventi di situazioni ripeto di traumi quindi veramente sia un vero e proprio recupero dell'anima è un lavoro molto sicuro sia vale della protezione dell'arcangelo michele durante l'esercizio quindi quando vengono ripetute queste tre frasi viene invitato l'arcangelo michele nel processo di guarigione ecco perché logos healing è veramente veramente potente è anche molto veloce nella risoluzione dei nostri dei nostri blocchi va bene la seconda fase di logo ceiling è la riprogrammazione la riprogrammazione serve per diciamo per andare a sovrascrivere le credenze che no e le energie che noi abbiamo eliminato dal nostro spazio personale allora se noi andiamo a lavorare sul livello delle credenze se io ho una credenza negativa che non posso farcela quando io vado a eliminare questa credenza dal mio sistema dal mio campo energetico per per essere più semplice va bene dal mio inconscio in realtà io sto facendo pulizia noi andremo quindi con la riprogrammazione a sovrascrivere e a installare diciamo un nuovo programma una nuova credenza potenziante a mio favore io ce la faccio io sono forte io sono coraggiosa è un esempio ok quindi andiamo con la riprogrammazione a cambiare l'immagine di noi stessi perché in realtà quello che ci accade all'esterno non è altro che il riflesso dell'immagine che noi abbiamo di noi stessi facendo questo cambiando la nostra auto immagine il rapporto che noi abbiamo con noi stessi con la nostra persona quando io mi guardo allo specchio cosa vedo quando io mi trovo di fronte alle altre persone come mi sento ecco tutto tutte queste sensazioni questi pensieri queste emozioni vengono trasmutate quindi si inizia a creare un energia di gioia di amore di appagamento iniziamo a sentirci più sicuri di noi stessi iniziamo anche ad avere il coraggio di agire nella direzione dei nostri sogni e i nostri obiettivi quindi l'obiettivo di questo video è quello di ve lo dire assumo in una in una frase esci dalla paura agisce ora questo è possibile con logo ceiling naturalmente c'è un percorso un processo da fare la cosa meravigliosa di questo lavoro è che una volta che tu imparerai tutto il processo quindi la parte della liberazione la parte della riprogrammazione quando ti sarai allenata quando ti sarai allenato abbastanza sarà in grado di proseguire questo lavoro anche da solo da sola senza il mio aiuto e potrai utilizzarlo occasionalmente quando hai bisogno di eliminare lo stress quando hai bisogno di eliminare una paura quando hai bisogno di eliminare un mal di testa perché magari sei stato in un luogo un po affollato quando hai bisogno di una persona ti ha un po infastidito sei entrato un po in uno stato conflittuale interiormente con tu puoi utilizzare logo ceiling anche per questo quindi veramente uno strumento che poi ti rimane e poi continuare a utilizzarlo per il tuo massimo bene per la tua crescita personale per acquisire maggiore sicurezza in te stesso in te stessa e per continuare ad andare avanti nella tua vita testa alta uscendo dalla paura adesso io spero di essere stata abbastanza tiara per presentarvi questo lavoro bisogna veramente provare in me cioè provare non ha senso ma anche solo provando in una sola sessione tu avrai un risultato fin da subito quindi non ci sono stati casi che le persone non abbiano avuto dei risultati certo questo metodo può piacere di più piacere di meno una cosa è certa è efficiente e da dei risultati concreti se tu veramente vuoi uscire da da questo tuo malessere ok va bene io vi saluto per qualsiasi informazione potete contattarmi telefonicamente ok dovrebbe comparire il numero qui sopra oppure qui sotto ci sono i link con i contatti e potete contattarmi scrivermi su whatsapp spiegarmi la vostra situazione così possiamo vedere se io posso darvi una mano nella vostra situazione a vi aspetto un salutone a presto ciao